L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Lascaris il 21 giugno da Giandui a Andrea Flamini il pane della carità, donato alle autorità che hanno sede in città in occasione della festa di San Giovanni, patrono di Torino, il 24 giugno. Il tradizionale incontro è stato curato dalla Succession Piemonteisa.